Dovrebbe mancare solo la firma e il condizionale, in questi casi è d'obbligo, ma l'accordo tra il Pistoia Basket ed Eric Lombardi sembra essere cosa fatta. Le voci di basket e mercato si sono rincorse da questa mattina e nel primo pomeriggio anche la società di viafermi per voci del DS Giulio Iozzelli ha ammesso che la trattativa è a buon punto e che al massimo nella mattinata di mercoledì potrebbe essere dato l'annuncio ufficiale. Prende sempre più forma dunque la nuova Giorgio Tesi Group, dargata Vincenzo Esposito. Dopo il riscatto di Luca Severini, la conferma per altre due stagioni del capitano biancorosso Ariel Filloi, l'ingaggio da caserta di Michele Antonuti è con l'arrivo del quarto italiano. Proveniente da Biella, formazione di Lega 2 Eric Lombardi, classe 1993, è nel giro delle nazionali, under 16 prime, under 20 poi, con la quale ha conquistato l'oro agli europei nel 2013 in Estonia. L'anno scorso ha chiuso la stagione con 8,3 punti in 25 minuti di media, partita raccogliendo 4,2 rimbalzi in regular season. Cresciuto nel giovanini della palacanestro Biella, esordito in prima squadra in Serie A nella stagione 2011-2012, disputando 23 partite. Nell'estate 2012 è andato in prestito al basket Brescia Leonessa in Lega 2, per poi nella stagione successiva ritornare a casa a Biella. Nel suo curriculum anche la partecipazione lo scorso 6 gennaio all'All-Star Game tenutosi al Palabam di Mantova, dove è stato riconosciuto MVP della serata e della gara delle schiacciate. Ala di 2,01 metri per 95 kg di peso, Eric Lombardi è l'ulteriore tassello a disposizione di Esposito, un prospetto di indubbio valore al quale si dovranno aggiungere gli USA che arriveranno a Pistoia alla loro prima esperienza nel nostro campionato.